Sono di importazione questi Sono quelli dell'euro spin Dell'euro mamma te la Questa scala ha proprio Questa scala Guardate come devo guardare la visione Che se no non ci vedo Che comodon No aspetta Si comunque io ho mandato un messaggio a Biatt oggi Non mi ha risposto, sei stato promosso Non mi ha risposto quindi vuol dire che Mi ha dato un po' Mi mi andate Mi to' guardare in casa Mi andate, che tardo il muro E' sparta E' sparta E' sparta E' sparta E' sparta E' sparta il treno passa sempre vicino arriva no